Miei cari salve a tutti, benvenuti e soprattutto ben ritrovati qui sul canale, qui su The Zion Theory, io sono ovviamente Spazio. È di qualche giorno fa oramai, di una decina di giorni fa più o meno, la notizia dell'annuncio, diciamo, da parte dell'accordo che c'è stato da parte di Embracer, la società che detiene i diritti dello Hobbit del Signore degli Anelli, con Warner Bros. e New Line Cinema per la realizzazione di tutta una serie di nuovi prodotti, film, videogiochi, eccetera, eccetera, a tema Signore degli Anelli. Una notizia sicuramente bomba, che da una parte preoccupa dall'altra entusiasma. Preoccupa perché? Preoccupa soprattutto gli appassionatissimi e i puristi, che, insomma, non c'è bisogno di avere paura di questa parola, puristi, sembra quasi che ogni volta che si pronuncia puristi si veda all'orizzonte qualcuno di invasato, invece no, insomma, degli appassionati di prima categoria, ecco, degli iscritti di Tolkien e magari un'altra fetta di appassionati più soft, che hanno apprezzato soprattutto la trilogia di Peter Jackson e quindi si sono avvicinati in un secondo momento comunque alle opere di Tolkien, quindi c'è sempre un po' questa spaccatura. Quindi da una parte c'è preoccupazione per quanto riguarda soprattutto i puristi, dall'altra invece entusiasmo. Prima di parlarvi però più in maniera approfondita del senso di questa notizia e di che cosa poi porterà questa notizia nel futuro per quanto riguarda appunto tutta una serie di prodotti a tema Tolkien, vi ricordo brevemente le solite cose, ragazzi, ovvero iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, lasciate un like e un commento tattico, trovate qui sotto i link per seguirmi anche sui social, in particolar modo vi invito a seguirmi su Instagram e vi ricordo anche di attivare la campanella per rimanere aggiornati sui contenuti che porto qui sul canale e soprattutto sapere con esattezza quando uscirà un nuovo video. Bene ragazzi, che cosa significa questa notizia alla fine della fiera, insomma in soldoni? che a tutti gli effetti Tolkien è diventato un franchise, è diventato un brand, sta facendo la fine del Marvel Cinematic Universe, di ciò che sta accadendo e accade anche a Star Wars con tutta una serie di film, serie tv, eccetera, eccetera, che si intersecano fra di loro e che creano appunto questo universo parallelo, questo universo alternativo. Ed è ciò che accadrà appunto al Signore degli Anelli e allo Hobbit. Innanzitutto c'è da chiarire una cosa, che i prodotti che verranno fuori da quest'accordo, da quest'accordo fra Embrazer e Warner, sono relativi per l'appunto al Signore degli Anelli e allo Hobbit. Non ci sono diritti per quanto riguarda né le appendici, che invece sono appannaggio di Amazon, come sappiamo bene che ha poi realizzato quella bellissima, si fa per dire, serie degli Anelli del Potere, né tantomeno ci sono diritti per quanto riguarda il Silmarillion, insomma racconti di questo tipo che vanno a espandere appunto il Signore degli Anelli, insomma le storie del Signore degli Anelli e lo Hobbit. Per cui dobbiamo aspettarci che cosa? Che verranno realizzati dei prodotti inerenti a delle figure che soprattutto gli appassionati dei film e non negli appassionati degli scritti di Tolkien hanno apprezzato e hanno amato. Quindi vedremo sicuramente dei prodotti, a mio modo di vedere, relativi ad esempio all'infanzia di Aragorn, ad un approfondimento della figura di Gandalf, ad un approfondimento anche della figura di Gollum, quindi tutti questi personaggi conosciuti e straconosciuti soprattutto per la trilogia di Peter Jackson. Quindi dimentichiamoci, soprattutto per quanto riguarda queste grandi produzioni, che si vada a toccare degli argomenti più di nicchia. Questi argomenti più di nicchia verranno invece realizzati e verranno toccati per produzioni minori. Infatti nel 2024, più precisamente ad aprile del 2024, uscirà War of the Roirrim, che sarà un film d'animazione. Qui vedete già l'antifona diversa, cioè si realizza un qualcosa più di nicchia per l'appunto, che va a prendere una fetta minore magari di mercato. War of the Roirrim, come suggerisce parzialmente anche il nome, andrà a occuparsi delle vicende di Elm Man di Martello, una figura importante proprio per quanto riguarda i Roirrim e Rohan in generale. E quindi, vedete, già è un argomento un po' più che va nel dettaglio dei racconti di Tolkien, che ci va a raccontare una figura che non si conosce. Quindi, da una parte avremo questi prodotti più di nicchia, che mi auguro ottengano anche un successo importante, così che se ne possano realizzare degli altri. Forse sono proprio questi i prodotti ai quali noi, diciamo, appassionati puristi, che, ora virgolette, dobbiamo un po' dirigerci, e invece verranno realizzati dei prodotti, i prodotti più grandi verranno invece realizzati proprio con i protagonisti che ho menzionato poco fa. Qual è il timore che ho, ragazzi? È che questa tendenza del politicamente corretto, questo quindi imbarbarimento culturale galoppante che c'è, ragazzi, e che quindi fa in modo che tutti questi prodotti oramai vengano realizzati con lo stampino, siano standardizzati e che vadano ad abbracciare una fetta grande, un'ampia fetta di pubblico, diciamo, il mio timore è che si possa fare un po' quello che abbiamo visto negli Anelli del Potere, dove c'è uno scarso rispetto nei confronti del materiale d'origine, dove anche la stessa identità e lo stesso spirito sono stati traditi, lo spirito del Signore degli Anelli e degli scritti di Tolkien è stato un po' tradito, ma soprattutto, al di là della canonicità, proprio la qualità dell'opera in sé, a livello di sceneggiatura, di storia, eccetera, eccetera, è stato molto molto carente. E quindi il mio timore è un po' quello. Però, da una parte c'è questo timore, dall'altra parte c'è invece un po' di fiducia, perché Amazon non è Warner Bros, Amazon può permettersi anche dei flop importanti, perché Amazon comunque non è soltanto film e serie tv, è ben altro, lo sappiamo perfettamente, mentre Warner si muove proprio in questo campo, per cui non può permettersi dei prodotti troppo divisori. Credo che, e voglio sperare, che nella realizzazione dei prodotti magari riguardanti Aragorn, dei prodotti riguardanti Gollum, Gandalf, eccetera, eccetera, si trovi il giusto compromesso. Si trovi il compromesso che va, purtroppo, ad abbracciare questo politicamente corretto, tutte queste tendenze senza senso, e quindi anche ad accontentare una fetta di pubblico più grande, però si vada anche a rispettare il materiale di partenza. Quindi il mio augurio, la mia speranza, la mia visione positiva, è quella che si possa ottenere questo compromesso. Un compromesso fra le tendenze che stiamo vedendo e il rispetto, ripeto, nei confronti di Tolkien e dello spirito proprio tolkieniano. L'altra cosa che mi fa riflettere, e diciamo l'altro mio augurio, è che a capo di questi progetti ci possa essere una persona con una visione chiara di quello che sarà, una visione soprattutto proprio nel rispetto, comunque, di Tolkien. Quindi che colui il quale andrà, o coloro i quali andranno a muovere le fila di tutti questi progetti, abbiano una visione ben chiara, una visione strutturata bene di tutto quello che ne verrà fuori. Quindi il mio augurio è un po' quello. Non so chi ci sarà a capo di tutto questo. In molti sperano che possa esserci anche Peter Jackson a muovere le fila di tutti questi prodotti. Però per quanto mi piaccia l'idea di mettere Peter Jackson, non è che ci debba essere per forza lui. L'importante è che ci sia un regista, o comunque un direttore creativo, chi per lui, bravo, uno che sappia quello che sta facendo. E ce ne sono comunque di registi, di artisti di spessore, insomma, in giro per il nostro globo terraqueo. Per cui, ecco, la speranza è che, alla base di tutto questo, ci siano delle persone che sappiano quello che stanno facendo. Ecco, chiedo soltanto questo. Poi, ragazzi, dobbiamo rallegrarci o meno di questa notizia? Io direi che dobbiamo comunque tendenzialmente rallegrarci, perché porterà comunque a tutta una serie di nuovi appassionati che magari andranno poi a riscoprire proprio gli scritti di Tolkien, andranno a studiare, a rileggere più e più volte quelle che sono state le opere di Tolkien padre e poi del figlio Christopher. Per cui, secondo me, non dobbiamo nemmeno troppo preoccuparci. La cosa di cui dobbiamo preoccuparci è sperare che ne vengano fuori dei prodotti fatti bene. Ecco, poi alla fine della fiera è un po' quello il discorso, perché se devo vedere un secondo Anelli del Potere, allora a quel punto un po' mi arrabbio, perché effettivamente lì non è un discorso di canonicità, è un discorso che proprio le cose sono state fatte male. Cioè, a livello, ripeto, di sceneggiatura, di tutta una serie di situazioni, ragazzi, certi dialoghi, certe situazioni, veramente... non so come si facciano ad apprezzare, soprattutto se paragonate a un materiale di partenza di grandissima qualità, per cui bisogna anche rapportare queste cose. Cioè, gli Anelli del Potere sono stati, diciamo, presi da... sono stati, diciamo, trasposti da un materiale di grandissima qualità a livello letterario. Cioè, non stiamo parlando di un fumetto da strapazzo, magari, no? Stiamo parlando di un qualcosa di grande spessore. Per cui le cose vanno sempre un po' rapportate. Non tutte le cose hanno la stessa importanza e lo stesso livello di qualità. Di conseguenza, torno a ribadire, la speranza è che i prodotti che verranno fuori da questo accordo e che saranno sicuramente inerenti a tutti quei personaggi che gli amanti della trilogia di Peter Jackson conoscono bene, quindi Gandalf, Gollum, eccetera, eccetera... Insomma, i prodotti che verranno fuori da questa situazione siano prodotti di qualità che, comunque, possiamo definire film degni, serie tv degni... Insomma, almeno questo, ecco. Poi, purtroppo, non aspettiamoci la qualità della trilogia di Peter Jackson. Quello è stato un unicum nella storia del cinema, ragazzi, ed è un qualcosa che oramai è difficile da replicare per la tendenza proprio che stiamo avendo in questi anni, in questo periodo, dove comunque viene tutto brandizzato, dove tutto diventa un franchise e si cerca di ottenere il risultato sicuro, insomma, si cerca di andare a botta sicura. Per cui queste situazioni che vanno a lasciare spazio un po' alla creatività e all'inventiva dei registi, non possiamo più aspettarcele, almeno nei prossimi anni, per quanto riguarda questi prodotti. Poi, per tutta un'altra serie di prodotti, sì, ma per quanto riguarda questi marchi importanti, non possiamo aspettarci chissà quale libertà creativa. Magari ce la possiamo aspettare, come dicevo poco fa, per questi prodotti di nicchia. Allora sì, allora da quel punto di vista, magari un po' più di libertà d'azione ci sarà, ma per le grandi produzioni, secondo me, possiamo anche un po' dimenticarcelo. L'unica speranza è come nel caso dei film fatti bene della Marvel e di Star Wars, e che escano, ecco, dei prodotti, magari come nel caso di Avengers Endgame, che sono comunque dei film, no, di un certo impatto, non delle opere indimenticabili, ma comunque dei film che uno dice, vabbè, è stato un bel film, insomma, mi è piaciuto tutto sommato. Ecco, se dovessi uscire dal cinema, quando appunto verranno realizzati questi film, e dire, vabbè, dai, tutto sommato è stato un bel film, non mi è affatto dispiaciuto, potrò ritenermi soddisfatto, vista la tendenza attuale. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate voi a riguardo, fatemi sapere cosa vi aspettate, se siete pessimisti, se siete ottimisti, e soprattutto su quali personaggi, su quali situazioni vi aspettate che vengano appunto tirati fuori dei film. Commentate come sempre, fatemi sapere la vostra, io ci tenevo particolarmente a parlare di questo argomento, pure a distanza di qualche giorno, perché, sapete, ho una grande passione per Tolkien, sicuramente ne riparleremo. Detto questo, vi do appuntamento a venerdì prossimo con un nuovo video, un abbraccio a tutti voi, da Spazio. Grazie a tutti.